Per l'insalata hai bisogno di una tazza di mirtilli, una tazza di lamponi, un cucchiaio di semi di cannappa, mezza limetta o limone, un avocado tagliato in cubi, l'insalata mista, rucola. La mia cena estiva è rucola con lamponi e mirtilli. È buonissima! È facile coltivare la rucola in quanto ha bisogno di poca acqua. Esce facilmente fino a diventare una pianta matura in breve periodo. Grande quantità di clorofila, nota anche come sole liquido, aiuta a pulire il sangue, disintossica le cellule, guarisce le malattie nel corpo e aumenta l'ossigeno. La rucola è ricca in vitamina C, un importante e potente antiossidante con benefici per le cellule del corpo e la salute della pelle. Nel sud Italia ci sono ottimi prodotti con i quali si possono fare squisite pietanze, soprattutto con le verdure, perché il clima meriteraneo le rende particolarmente buone. Ho imparato ad amare la cucina vedendo mia mamma dietro ai fornelli, che preparava piatti della tradizione italiana perché mia mamma è nata in Italia. Ciao! 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 Ciao!